su cazzi rumori in merda e come usando tu su un rumore c'è un rumore metallo che cazzo magari in maniera meccatate come sento un rumore tu hai è buona fermata ma come da fastidio sull'umore pure a fermarmi ma che cazzo di rumore come venne a vigna vecchia c'è una faccina ma fermarmi ma che cazzo di fiammo 10 ma pure una palla ma sempre per colpato ma domani c'è coglione parami ma che cazzo scusa punto tani che s'ha fermata un po più per colpa da 2 sui ancora la mia tutta cazzi gioca di merda a cavallo secondo me se tu c'è ragione ma dicono dove cazzo sei minuto a finire ma io non lo so se sto segnalando sa che la prima che cazzo i segnali c'è tutti gli avuto proprio a pensare io la compa era purtroppo io non lo so ma che era un formato giravano una parte ma donna è il capo colonna ma che cazzo è stato ma che ne sta puttana era ma saranno se di riuscire a portare sono fatto a bocchini era potente che cazzo fa ma guarda che cazzo ma come una cosa che si può rimanere ma ma non ma ma prima ma l'ho fatto ma fanno pompini secondo me la scuola ma guarda se ti metti mezza cazzo non è coppia è compatto tenendo mezzo cazzo c'è allora questa che mi metta mezzo cazzo e dubbolo ma dice guarda guarda usa anche ad un asma ma farlo compito ma farlo compito guarda un moto di violenza ai compagni sono bambini ma che cazzo sono conto e non te ne ha ragione si è una puttana ma è bene si è una puttana ma che cazzo siete c'è no ma chi si è in merda ma ma fa quello comunque ma sposta ma che era mezzo cazzo carina mia e con me già siamo in ritardo guarda vuoi che ma come i pochi ma sa puttani ma comunque è buono è buono a me piace però adesso lo buone tenere quindi a me spero proprio sesso come un anno ballo corsi e non volo molti piccioni ma perché non ballo molti piccioni proprio è però sa cos'è che tutti i ragazzi che penso lì che pensi che pezzolino matola visti che pensi che hanno colo in quello che cuno vabbè era ma non è proprio l'occhio ma ma che tu c'è mia ragazzi ciao tutto apposto eh sì è nata se con il piccione c'ho bagnata sai allora guarda parrucchiere è sì barrucchiere cazzo davanti capito no c'è che ti fa tu barrucchiere hai capito eh no ti prendo la figa eh scusa ah hai capito ma a tasto eh che cazzo hai detto mmm non mi conto buona tu con te ho i tuoi in merda abitati ma anche se non so con le dice e che è una pozzana giuvi come ma giusto per eh regolazioni beh beh ma io e com tu cazzo ti prendo ma che cazzo ti prendo no e niente scusate sicuro si si scusa quindi cercano un pezzo di ciò sicuramente la facciamo davvero tutta c'è la vediamo e babbani ragazzi che parlano con i cazzari da compa zoccoli ma guarda che balla una bella che merda no ma questa è la cella vera di gamba come come fumo di gamba è una gamba da puttani mamma aspetta casti allora sì ma guarda io noi facciamo sì non lavoro un pochettino difficile io facendo pugnese le scimmie i pugni e tipi bombini cosa come una fatica comunque i ciolle di cimbi su bel piccolo non è che proprio ciolle tipo facciamo supporti tipo cazzi di plastica per le scimmie donne c'è proprio piccole per il futuro potremmo una svolta cioè mi sono spiegato non lo capito prima c'è un ultimo ruolo le scimmie che sta a capire sono le poste proprio quelle poste che ne fanno male io proprio che ho come sa forchetta vinti ma nera come c'è una città ma nera madonna ma nera madonna ma quello non è arrivato a cava ma nera ma nera ma nera comunque sono buono se cozza eh se il broccoli sono una cosa fiera allora guarda adesso io ho un coglione in mano e vi faccio vedere un po come si apre allora ho un coglione qua sono belli i coglioni eh ti piacciono i coglioni poi ma su bellosaniz oppure si guarda allora guarda come rotonda allora tu lo prendi così in mano lo guardi lo osservi e poi dopo come bello questo qua bello rosso un po che ci vuole più niente questo lo pesi lo sbatti un po di qua e un po di là e poi di nuovo lo osservi l'oltre che l'hai osservato così bene ecco lo prendi e pronto sorpresa rullo di tamburi e zack e poi le mette secca dal sole poi dopo due tre giorni classico la colla vinilica e vedere l'effetto però non si butta il pane in quel modo compa prova scrivi cazzo ma che era che non è a formicuglione no ma chi sei una figlia su cinque niente no ma mi sa voglio che era già formicuglione che forse la teni non lo so questa a ver dove va chi è su te la stessa mi so ma voi sei verificato eh no ma io non so ho i giobbio che cazzo ma la faccio no ma io non so ho i giobbio che vanno capto Grazie mille, ragazzi di più.